Nessuno dei quattro assessori del PD lascia la giunta, l'annuncio è arrivato questo pomeriggio. Non mi farò condizionare da nessuno, il Presidente della Regione risponde al Partito Democratico, non sono il pupo di nessuno. Per il diritto di ogni bambino a una famiglia, con questo titolo si è svolto il convegno a Palazzo delle Aquile sul tema dell'affidamento familiare. Buonasera, nuova edizione di Media News. Come avete sentito dai titoli, nessuno dei quattro assessori del PD lascia la giunta. Luca Bianchi, Maria Lobello, Nelli Scilabra e Nino Bartolotta non accolgono l'appello del PD. L'annuncio è arrivato questo pomeriggio. Nel day after della direzione PD che ha ufficializzato la rottura a un crocetta, in molti non sono d'accordo alla strada interpresa ieri dal partito. A cominciare dai quattro assessori che, smentendo chi pensava alle loro dimissioni, hanno deciso di restare. Io personalmente mi sento offesa dalle dichiarazioni del mio segretario, che ci dice essere inadeguati, perché qua in questi dieci mesi non ha scherzato nessuno. E riteniamo anche che una decisione così importante come quella di uscire fuori dalla maggioranza di un governo che si è contribuito a creare, a votare, ricordiamo che il presidente del PD, del PD. Penso che sia una cosa che i siciliani non si possono permettere. Perché una decisione del genere quantomeno merita un referendum degli iscritti del PD. E dalla parte di Crocetta, in questa crisi appena scatenata dal PD, potrebbero ritrovarsi a sorpresa i renziani di Sicilia. Davide Faraone, leader della corrente Sicula del sindaco di Firenze, ammette di non condividere la linea di rottura decisa ieri dal partito. Dietro le quinte potrebbe profilarsi un accordo fra Crocetta e i renziani per sostenere il sindaco di Firenze nella corsa alla segreteria nazionale ed eventualmente Fabrizio Ferrandelli in quella per la leadership del partito in Sicilia. I renziani e l'Ars sono due, ma potrebbero spingere anche qualche altro scettico a non ostacolare Crocetta. Tuttavia, anche in questo caso, il presidente, privo dell'appoggio di tutti o quasi 18 parlamentari PD, non avrebbe la maggioranza. Dalla sua parte rimarrebbero i 10 dell'Udc, i 7 di articolo 4, i 6 del megafono e gli altri 6 dei DRS. E poi ancora Pippo Gianni, Michele Cimino e forse l'ex 5 Stelle Antonio Venturino. Crocetta si fermerebbe così fra i 32 e i 34 deputati a suo sostegno. E il presidente della regione risponde al Partito Democratico non sono il pupo di nessuno, dice e non mi farò condizionare. Per me si continua il programma che è stato concordato con il popolo siciliano. Io non mi faccio condizionare da nessuno e non sarò mai il pupo di nessuno. Se c'è qualcuno che mi può domare è il popolo siciliano. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, risponde al suo partito, al PD, dall'ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono ricoverati gli uomini della sua scorta, rimasti feriti nell'incidente stradale di sabato scorso. Crocetta ha ribadito la difficoltà di questo momento in cui la politica per lui è passata in secondo piano. Lupo ha detto Io credo che in uno dei momenti più difficili della mia vita, in cui temo per la vita delle persone che mi fanno la scorta e che la rischiano ogni giorno per me, io possa fare questo dibattito politico. Io mi sarei aspettato veramente che sospendessero la direzione e venissero a fare non una visita al presidente della regione che ha subito uno shock tremendo, che ha rischiato la pelle, ma a questi poliziotti che la stanno rischiando ancora la pelle. E su quel casello di Cassibili il presidente della regione vuole vederci chiaro, denunciando che non c'è nessun tipo di avviso per le persone che permetta di identificare questi caselli abbandonati che non sono mai stati attivati. Sulla questione Crocetta intende predisporre una commissione d'inchiesta che andrà a vedere se sono rispettate le norme stradali. Intanto lunedì prossimo il governatore convocherà il Cass. Cambiava argomento. Beni mobili e immobili per un valore di oltre 700 milioni sono stati confiscati dalla direzione investigativa antimafia all'imprenditore di Castelvetrano Giuseppe Grigoli. 64 anni, indicato agli inquirenti come uomo di fiducia e prestanome del boss latitante Matteo Messina Denaro, ritenuto nuovo capo di Cosa Nostra. Il provvedimento definitivo di confisca del patrimonio è messo alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani riguarda 12 società, 220 fabbricati tra palazzine e ville, 133 appezzamenti di terreno per un totale di 60 ettari. Un tesoro che secondo gli investigatori sarebbe frutto di proventi illeciti e di riciclaggio di denaro sporco. Giuseppe Grigoli è attualmente detenuto in quanto condannato dalla Corte d'Appello di Palermo a 12 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso. Nell'ambito dello stesso procedimento penale, Matteo Messina Denaro è stato condannato a 20 anni di reclusione. E operazione della squadra mobile coordinata alla DDA di Milano nei confronti di presunta organizzazione mafiosa attiva in Lombardia è ritenuta emanazione diretta di Cosa Nostra. Questa mattina all'alba arresti e perquisizioni di società cooperative attive nella logistica e nei servizi che mediante false fatturazioni a sfruttamento di mano d'opera hanno realizzato profitti in nero dal 2007. Tra gli arrestati anche il genero e la figlia di Vittorio Mangano. Una breve pausa per la pubblicità. Tra poco. La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia, a 20 chilometri da Catania. Basta assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom. A Scordia, in piazza Piersanti Mattarella 20, in via Cristoforo Colombo 5 e in via Statuto 194. Oppure se sei abile con il web, basta un clic e hai il tuo preventivo. www.rosamobili.it e www.sltessuti.it E se hai moneta Sicanex, risparmi i tuoi euro. Sugli sportelli multifunzionali si va verso la firma di un protocollo che dovrebbe stabilire un percorso transitorio di 8 mesi. Con il transito di 1.800 lavoratori al Ciapi per arrivare una riforma che, tenendo conto di quella nazionale, costruisca un sistema pubblico privato per la gestione dei servizi per l'impiego. La decisione è arrivata ieri sera dopo ore di trattative tra CGL, CISL e Will. L'assessore al lavoro, Esther Bonafede, lo riferiscono. In una nota, FLC e CGL, un tavolo tecnico, definirà adesso il resto del protocollo che i sindacati chiedono sia poi approvato dalla giunta regionale. Niente stipendi per i deputati regionali. Una nota della ragioneria dell'ARS li avvisa che non ci sono i soldi per il mese di settembre. Considerato che non sono stati ancora accreditati i fondi dovuti dall'amministrazione regionale a titolo di dotazione ordinaria aspettante all'Assemblea regionale siciliana per l'anno 2013, il pagamento dell'indennità parlamentare sarà differita rispetto alla data ordinariamente prevista. Con questa nota della ragioneria all'ARS, i 90 deputati di Sala d'Ercole hanno appreso che non ci sono soldi per i loro stipendi di settembre. Quello dello stipendio è un argomento molto sensibile per gli inquilini di Palazzo e Normanni. Basti pensare alle dimissioni di Antonello Cracolici dalla Commissione Speciale per la Spending Review che ha il compito di diminuire le spese e di conseguenza anche gli stipendi dei deputati. Venerdì la Commissione si riunirà nuovamente a coordinare i lavori il Presidente e l'ARS Giovanni Ardizione. Ma sull'esito delle decisioni ci prendiamo la libertà di essere perplessi sperando che per una volta i nostri deputati ci possano sorprendere. E' un accordo per il settore forestale è stato siglato oggi al Governo regionale da CGL Cisle e Will. L'intesa prevede il finanziamento delle giornate di lavoro garantite per legge ad addetti alla manutenzione e agli addetti anti-incendio delle varie fasce. Per l'operazione, riferiscono i sindacati, serviranno circa 45 milioni. Entro il primo ottobre inoltre l'azienda e il comando del corpo forestale dovranno trasmettere agli uffici periferici del lavoro le richieste di avviamento al lavoro e di prosieguo dei rapporti già esistenti puntando ad attuare quanto previsto dall'accordo del 2009 sul perseguimento della maggiore stabilità occupazionale. Antonio Ingroia è il nuovo commissario liquidatore di Sicilia e Servizi. Ieri pomeriggio, nella sede palermitana della società, si è riunita l'Assemblea dei Soci che ha votato la messa in liquidazione della partecipata, contrario il socio privato, nominando l'ex PM palermitano liquidatore. Nei prossimi giorni, dunque, Ingroia potrà insediarsi. Il presidente della Regione Crocetta aveva annunciato la scelta dell'ex magistrato per l'incarico di commissario nel luglio scorso. Per il diritto di ogni bambino a una famiglia. Con questo titolo si è svolto il convegno a Palazzo delle Aquile sul tema dell'affidamento familiare. Un aiuto per minori che temporaneamente non godono di un ambiente familiare idoneo. Ascoltiamo le interviste. Come si può incentivare l'affidamento oggi? Gli obiettivi che si propone l'associazione sono quelli di sensibilizzare le persone. Noi stiamo facendo una campagna per sensibilizzare le persone alla cultura dell'affido. La cultura dell'affido che sicuramente è la cosa principale per poter reperire nuove famiglie affidatari. Però parecchie famiglie che sono intenzionate già ad iniziare questa avventura dell'affido tante volte si trovano in situazioni tali economiche da non poter sopperire a questo nobile gesto e quindi è chiaro che anche le istituzioni debbano pure intervenire per cercare in sinergia tutte le figure istituzionali per poter far sì che si possa avere una maggiore richiesta di aspiranti affidatari. L'affidamento, quali sono gli strumenti a disposizione oggi delle famiglie che vogliono percorrere questa strada e come la pubblica amministrazione può aiutarle? Il Comune ha un centro affidi che è un ufficio stabile e costante che quindi ha opportunità tutti i giorni di poter dare informazioni. Ci sono servizi sociali e psicologi che possono aiutare le famiglie e in più abbiamo l'opportunità di poter garantire economicamente i contributi all'affido. Quest'anno anche attraverso il bilancio abbiamo proprio stanziato fondi per favorire l'affido. è importante la comunicazione ed è importante che le famiglie interessate se vogliono possono quindi avere informazioni ed essere aiutate e accompagnate in questa che è una pratica sicuramente opportuna per i nostri bambini e le nostre bambine. Adesso un'altra breve pausa per la pubblicità torniamo tra poco. La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia a 20 chilometri da Catania vasto assortimento di tendaggi e mobili di vario genere dai contemporanei ai classici e moderni scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili tende e tessuti vieni nei nostri showroom a Scordia in piazza Piersanti Mattarella 20 in via Cristoforo Colombo 5 e in via Statuto 194 oppure se sei abile con il web basta un clic e hai il tuo preventivo www.rosamobili.it e www.sltessuti.it e se hai moneta Sicanex risparmi i tuoi euro. Vincenzo Cannatella è il nuovo commissario straordinario dell'autorità portuale di Palermo a confermarlo è lo stesso manager ingegnere storicamente vicino al centro-destra succede a Nino Bevilacqua tra gli incarichi ricoperti in passato a Cannatella anche quello di presidente dell'AMAP la società che ricordiamo a Palermo gestisce il servizio di distribuzione idrica un'auto ibrida incomodato d'uso al comune di Ventimiglia è stata consegnata dal sindaco del comune del palermitano Antonio Rini dal direttore vendita della R Motors concessionaria Toyota nella nuova sede service carrozzeride di via nuova a Palermo con quest'auto in uso per un mese al comune il primo cittadino conta di risparmiare sui trasferimenti e dare il buon esempio in termini di spending review e rispetto per l'ambiente le interviste Ventimiglia di Sicilia decide di passare dall'auto blu all'auto verde di che si tratta? Sì in verità Ventimiglia di Sicilia non ha mai avuto un'auto blu ma in un momento in cui si parla tanto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle esose costose e io aggiungerei anche inutili auto blu sicuramente il comune di Ventimiglia intapendo una politica sull'energia diciamo ecosostenibile a partire anche dai mezzi di trasporto come le auto e così Ventimiglia dice no all'auto blu ma dice sì alle auto verdi e auto verdi attraverso una convenzione stipulata grazie alla concessione a titolo gratuito ed è bene sottolinearlo perché l'operazione non costerà nulla né alle tasche dei cittadini né sulle casse comunali quindi grazie a una convenzione stipulata col gruppo R Motors dell'Arriolo siamo riusciti ad ottenere un'auto quindi che farà ingresso a Ventimiglia di Sicilia una Toyota che è ibrida ovviamente e questo ci pone ovviamente come capoviglia per tutto quel tipo di politica ecosostenibile che cominciano dall'auto ma sicuramente si sviluppano anche in altre azioni questa è un'iniziativa rivolta alla pubblica amministrazione ma il fine è quello di arrivare ai cittadini perché l'esempio deve essere dato alla pubblica amministrazione ma i cittadini devono rendersi conto comunque che esiste una tecnologia che è una tecnologia valida affidabile e soprattutto alla portata di acquisto di tutti quindi il messaggio sicuramente deve essere recepito in tal senso Siamo in attesa di risposte certe dall'azienda sulla bozza del contratto di servizio con il Comune di Palermo che la dirigenza continua a tenere nascosto alle parti sociali il piano industriale dell'AMAT il potenziamento ormai non è più rinviabile dei servizi ai cittadini nel mantenimento dei livelli occupazionali ad affermarlo è Salvatore Girgenti segretario aziendale AMAT e componente della segreteria regionale FIT CISL Sicilia confermando lo sciopero dei lavoratori AMAT indetto dai sindacati Filt CGL FIT CISL Will Trasporti Orsa e FISA CISL per venerdì prossimo 27 settembre gli autobusi si fermeranno dalle 9.30 alle 17.30 Via Libera da parte della regione siciliana i finanziamenti per il teatro Bellini di Catania con i quali potranno essere subito pagati gli stipendi arretrati lo ha annunciato l'assessore regionale al turismo Michela Stancheris il sindaco Enzo Bianco ha ringraziato il presidente della regione Crocetta anche in un momento così delicato non ha smesso di occuparsi del teatro e ringrazio l'assessore Stancheris per questa boccata d'ossigeno ringrazio anche le maestranze per il loro costante impegno e con questo è tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti